Un quadro indiziario grave, una personalità incline a commettere reati, così il GIP del Tribunale di Trani Marina Chido, nelle 16 pagine di ordinanza di custodia cautelare, descrive Domenico Bellafede, 36 anni, ora in carcere a Foggia, accusato di omicidio volontario per la morte dopo 15 giorni di agonia di Cosimo Damiano Bologna, il cinquantenne che lo scorso 14 novembre a Canosa di Puglia sarebbe stato aggredito per aver difeso un'amica dalle sue minacce avvenute all'interno di un bar. Fondamentali le dichiarazioni della donna, ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che immortalano due persone litigare animatamente e una di queste è finire rovinosamente a terra tra via Rovetta all'angolo con via Giuliani, poco lontano dal luogo in cui sarebbe iniziata la discussione. Nei fotogrammi vengono riprese anche due persone di sesso femminile, una di queste sarebbe la parte offesa, l'amica che avrebbe rifiutato di instaurare con bella fede una relazione sentimentale perseguitata prima con continue telefonate e messaggi, poi con richieste di amicizia sui social e infine con appostamenti e pedinamenti. L'uomo a cui inizialmente erano stati concessi domiciliari, ritenuto responsabile di lesioni e minacce, viene immortalato mentre sembra avvicinarsi al malcapitato a terra ma poi si allontana dirigendosi verso il bar per poi salire sulla sua jeep reneghe di colore bianco. Elementi, scrive il jeep, che servono a cristallizzare a carico dell'indagato un quadro indiziario di gravità sufficiente per accogliere la richiesta di arresto da parte del PM, Marcello Catalano, il quale sul cadavere della vittima ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore. Servirà a chiarire aspetti ancora poco chiari della vicenda.